Un 2-3 via, un percorso ad anello di 50 km su due ruote con il fine di valorizzare la bellezza dell'Appennino Umbro Marchigiano. Questa è l'iniziativa di Pedale Stracco che domenica 29 settembre, partendo dal piazzale antistante il campo sportivo di Fabriano, toccherà tutti i luoghi più suggestivi nei dintorni della città della carta, il tutto per promuovere ed esaltare le bellezze e i panorami suggestivi del territorio. La manifestazione si chiama Route 50, si svolgerà su un percorso di 50 km ad anello, attraverso paesaggi mozzafiato, attraverso single track, cararecce, strade sterrate e con un dislivello di 1600 metri circa. Una sfida impegnativa che farà la gioia degli appassionati di mountain bike e volgerà valorizzare il ciclismo e i cammini. L'iniziativa è inoltre inserita nei circuiti Bike Tour Coppa Marche e punta a promuovere le opportunità turistiche legate al mondo bike, portando l'entroterra fabrianese al centro dell'attenzione degli appassionati. Altro cavallo di battaglia di questa edizione è il nuovo sito Visit Fabriano, dove l'assessorato al turismo si sta impegnando a creare una sezione dedicata alla sentieristica nel territorio fabrianese. Noi dobbiamo tentare anche con la nuova informazione del sito internet Visit Fabriano a promuovere sempre di più la possibilità di accedere nel nostro territorio con il mezzo delle due ruote per poter ammirare le meraviglie del nostro paesaggio.